Di nuovo insieme, seconda parte di fatti e commenti, iniziamo questo 2024 con il sindaco di Ancona Silvetti che ci sta raccontando questa nuova idea di città ma anche di progettualità importanti. Lo avevo interrotto su quella che potrebbe essere una straordinarietà ma che va programmata, quindi c'è poco di lasciato al caso. Il G7 della Salute lo abbiamo letto e sentito ma anche se è un po' presto è un appuntamento estremamente importante. Di cosa parliamo? Quando? Dove? Ancona è stata scelta quale sede per lo svolgimento del vertice del G7 della Salute, quindi dei sette ministri della salute, delle sette potenze mondiali e si svolgerà i primi giorni di ottobre. Quindi saranno quattro giorni estremamente intensi in cui la città di Ancona dovrà ospitare non solo il vertice dei vari di casteri ma soprattutto tutto l'entourage, tutta l'organizzazione dal punto di vista della sistemazione, dell'intrattenimento e della logistica. Quindi con tutto quello che comporta in termini di sicurezza. Quindi da questo punto di vista una grande ribalta che segue quella non meno importante della trilaterale che in qualche modo venne riconosciuta a luglio dello scorso anno, quando i ministri degli esteri d'Italia, Slovenia e Croazia appunto si incontrarono all'interno della mole vampitaliana per parlare di economia blu, di mare, di sostenibilità, quindi di temi a noi estremamente cari e fu quindi la prima grande ribalta internazionale. Questa sicuramente è una ribalta eccezionale che pone Ancona al centro e la pone in condizioni di visibilità senza precedenti. C'è tempo per preparare questo evento ma certamente è un bel banco di prova, riflettori accesi sulla città anche, sulla sua capacità di accoglienza. Esattamente, è un banco di prova importante in cui ogni cittadino darà il proprio contributo, non solo le istituzioni, non solo gli enti preposti, ma sarà un'occasione per non solo avere visibilità ma anche per dimostrare al mondo quelle che sono le capacità, le potenzialità, il patrimonio di una città così antica che meritava sicuramente una ribalta così importante. Poi, Sindaco, c'è anche per chi ricopre questo ruolo ad Ancona. C'è sempre questa richiesta di far diventare la città più marchigiana, più capoluogo di regione. Non so se lei la sente, questa aspettativa, perché a volte si percepisce come davvero poco regionale, poco marchigiana e non è così. Come dice giustamente il Presidente della Regione Acquaroli, la Regione Marchi ha bisogno di un capoluogo che faccia e sappia fare capoluogo. E quindi una città che in qualche modo è depositaria sia nel comparto più stretto, come quello più largo, delle infrastrutture più importanti, in realtà sappia essere un po' il comune capofila, che sappia fare rete, che sappia scandire bene i tempi delle scelte della politica regionale, che contribuisca e soprattutto si dia e soprattutto si apra alla regionalità. Ecco, questo è importante. E credo che il grosso sforzo debba farlo anche un'interno in quanto popolazione, in quanto identità fra le identità di questa regione, che sicuramente è una regione molto ricca dal punto di vista delle tradizioni, ma è sicuramente Ancona che deve fare lo sforzo maggiore e quindi l'idea di una città nemmeno troppo lontana da un'idea metropolitana ci aiuta e aiuta la Regione ovviamente a vedere il futuro in modo diverso. E quindi Ancona con le infrastrutture, con le proprie capacità e con la voglia di essere effettivamente regista di una nuova fase, insomma, che riguardi non solo Ancona ma tutta la Regione. Non vi sottraete a questo ruolo? Assolutamente. Torniamo a guardare e andiamo. Abbiamo qui il sindaco sul sito che ha molta della sua attenzione sulla città, Ancona Today, apre con questa storia molto triste del suicidio in carcere di questo ragazzo. È avvenuto a Montacuto, si sono alzati i riflettori su una situazione, quella del sovraffollamento delle carceri, che riguarda proprio il carcere, anche il carcere anconetano. Questa davvero è una storia molto triste che trova molto spazio su tutti i giornali e anche sui siti e questo è Ancona Today. Sempre per quanto riguarda la città, tre scuole cambiano sede, gli studenti entrano nelle nuove strutture, ce ne siamo occupati anche noi nelle nostre edizioni e telegiornali, perché questa mattina gli assessori alle politiche educative e ai lavori pubblici hanno accolto noi giornalisti insieme alla dirigenza per farci vedere dove erano stati spostati questi bambini che prima frequentavano le scuole che sono state danneggiate dal sisma del 2022, novembre 2022. Allora, Sindaco, la bella notizia è che avete trovato nuovi spazi a questi bambini e quindi una risposta importante alle famiglie. Tra l'altro va detto che ci hanno raccontato che sia gli operatori scolastici che quelli del Comune hanno lavorato durante le feste natalizie per fare in modo che oggi, primo giorno, i bambini potessero entrare in queste nuove scuole. E questa è la bella notizia. La brutta notizia è che i danni del sisma del 2022, novembre, c'è un comitato che ha dei problemi perché non sono neanche rientrati nella legge di stabilità. Insomma, il Comune che cosa può fare? Noi lo sentiamo spesso, il Comitato 707, avevamo detto che lei era ospite, quindi la domanda è d'obbligo. Cosa può fare il Comune per queste persone che non hanno più la casa, non possono rientrare? Come è stato giustamente detto, i fondi per la ristrutturazione dei edifici pubblici esistono, ci sono e vengono utilizzati appunto per il ripristino e per mettere in condizioni ai nostri giovani studenti di poter entrare in sicurezza e poter quindi svolgere attività didattiche. Abbiamo con il CAS dato la possibilità ai cittadini anconetani, che sono fuori casa per l'evento sismico, di vedere rimborsati tutti gli affitti dalla dichiarazione, no anzi dalla dichiarazione, dall'evento sismico fino a quando non si interromperà e terminerà lo stato di emergenza. Quindi da questo punto di vista c'è il supporto anche economico di coloro che vivono ancora fuori casa e che spendono ovviamente in affitti, in alloggiamenti onerosi e quindi da questo punto di vista l'attenzione è massima. Stiamo sollecitando il governo, ho sentito anche il Presidente Acquaroli sotto le festività da questo punto di vista perché per quanto non sia rientrata nell'ambito della legge finanziaria è stato approvato un ordine del giorno, peraltro in modo trasversale tra le varie forze politiche che porranno l'accento, l'attenzione fra i mesi di gennaio e i mesi di febbraio in una condizione tale per cui queste risorse, vista anche la particolare caratteristica di questo terremoto, che tutto sommato è un terremoto piccolo ma di per sé devastante per i singoli interessati, necessiterà di una maggiore attenzione e quindi anche di quelle risorse necessarie per arrivare alla ricostruzione dei plessi e degli appartamenti che sono oggi inagibili. Da questo punto di vista quindi la pressione politica che può fare il Comune è costante, c'è stato un impegno preso dal Presidente Acquaroli prima del termine dell'ultimo anno e questo sicuramente ci fa capire quali sarà l'attenzione e l'attenzione che porremo in essere nei confronti del Governo sollecitando sicuramente il responsabile della ricostruzione che appunto è il Senatore Castelli. Che conosce bene tutta la regione e naturalmente si occupa del terremoto del 2016 ma poi nel 2022 Fano, Pesaro e Ancona hanno vissuto questi momenti così difficili e Ancona è stata anche colpita in maniera anomala per alcuni aspetti ma certamente c'è da reagire e qualcosa bisogna mettere in campo. A proposito di notizie andiamo a vedere anche il Corriere Adriatico che come sapete nella sua versione online lancia notizie dalle 5 province delle Marche con dei titoli che riguardano più che altro la cronaca, poi la parte centrale, le notizie sono queste, non prescrive l'antibiotico dottoressa guardia medica aggredita da una coppia, questo è successo ad Ascoli e di spalla appunto la notizia del giovane suicida, gli atti in procura, la madre ora denuncia, ditemi la verità andava curato e quindi ci sarà un'indagine su quanto accaduto. Poi l'inverno ma nelle Marche il 2023 è stato caldo record, la Lotteria Italia che questa volta non premia tantissimo le Marche anche se il 2023 invece aveva regalato con la Dea Bendata parecchi numeri vincenti, questa volta la Lotteria Italia è un solo biglietto, alle Marche vanno solo 50 mila Euro, consolazioni per Pesaro e Porto San Giorgio. Poi sempre in taglio centrale altre notizie, ce n'è una sindaco che volevo commentare con lei perché è stata cronaca di questi giorni il ritrovamento di questo anziano in un appartamento della zona del piano, se non vado errata, che è stato ritrovato e sembra sia morto addirittura nel 2018 e il corpo è stato scoperto solo qualche giorno fa. Non è successo solo ad Ancona, purtroppo un episodio così grave, così anche brutto da raccontare, ma che cosa sta a significare questo? Che cosa possiamo fare? Non è possibile forse farlo passare, no? Come uno dei tanti fatti di cronaca di cui leggiamo e poi mettiamo da parte. A conto di una storia triste, di abbandono mi viene a dire, adesso non conosco la situazione familiare dello scomparso, del defunto, di abbandono familiare mi verrebbe da dire, però ripeto, non conosco bene quali sono i gradi di parentela ancora in essere, e di abbandono sociale per certi versi, perché mi sembra strano che in cinque anni, o grosso modo giù di lì, nessuno si sia sentito se non altro in dovere di bussare alla porta o di... Naturalmente non era in carico ai servizi sociali, no? Non parliamo di situazioni di difficoltà, di economica, però c'è qualcosa, questo è un discorso più generale, no? Nel nostro vivere, il nostro quotidiano, che non funziona. Beh, a volte si vive fra estranei anche all'interno dello stesso condominio, se non voglio dare colpa a nessuno, ci mancherebbe, però è singolare che in cinque anni scompaia dalla circolazione una persona che era abituale scendere quelle scale o prendere quell'ascensore e senza notizia, nemmeno per chi amministra l'immobile o chi in qualche modo conosce, conosce abitualmente insomma una persona... Magari, guardi, la butto là, perché non è successo solo ancora, magari anche il comune, no? Se vede che una persona non, non so, non ritira qualcosa, non si riesce ad intercettare questa assenza così prolungata. Ci sarà pure un qualche servizio che ha a che fare con i servizi sociali del comune, con l'anagrafe, con... lo dico perché è successo anche a Recanati dove addirittura due persone, due sorelle anziane, ma non vecchissime, sono state trovate dopo tanti mesi, quindi le domande sono quelle, no? È possibile che si riesca a scomparire così, ad essere così invisibili? Diciamo che è evidente che dopo cinque anni le utenze saranno state almeno dismesse e dal momento che nessuno sia opposto, ovviamente l'utenza viene dismessa e tale rimane. Se poi non si è nel circuito dei servizi sociali o di quelli che sono i collegamenti, a maggior ragione diventa difficile o in qualche modo capire se questa persona ha problemi di qualsiasi natura, insomma, per cui le utenze vengono dismesse, se magari è di proprietà non dovrà nemmeno pagare l'affitto, probabilmente era moroso a punto di vista delle tasse comunali, ma sulla morosità voglio dire sarebbe una goccia nel mare, è difficile immaginare che questa persona sia scomparsa anche dal punto di vista proprio della sua esistenza. Mi fa specie il fatto che comunque da quell'appartamento non siano arrivati segnali anche abbastanza inquietanti, tanto da solleticare o in qualche modo promuovere l'iniziativa di qualcuno, ecco questo sì, non mi viene da dire. Insomma, è triste, è una sola triste di abbandono totale, è una persona che è stata dimenticata da tutti. Eppure nei bilanci la parte dedicata ai servizi sociali è una parte, a mio modo di vedere, anche giustamente piuttosto corposa, piuttosto pesante, perché poi i comuni agiscono in quella direzione. Per i comuni di Ancona i servizi sociali incidono per circa 28 milioni di euro, quindi è una voce importante su un bilancio di circa 135 milioni. Quindi è un affetto importante che ci fa capire quanto in realtà oggi l'asticella si sia alzata in termini di richiesta e di emergenza. Purtroppo si fa servizio sociale sempre in emergenza, non riusciamo a programmare in tempi utili per salvaguardare. Una prevenzione. Anche soltanto per promuovere, perché poi pensiamo a servizi sociali soltanto per andare dietro a un'emergenza che possa riguardare il minore, o la persona anziana, o la persona disabile, o la persona che comunque ha dei deficit di qualche tipo. In realtà invece i servizi sociali dovrebbero servire anche e soprattutto per promuovere la famiglia, l'educazione, quelli che sono ovviamente i tanti aspetti che legano la crescita dell'individuo. Invece vediamo una società, parlo per Ancona ovviamente, in cui la popolazione anziana over 65 ormai rappresenta più di un quarto, quindi ci fa capire quanto in realtà siano sempre più obbligatoriamente mirate le attività di tutela dell'anziano e quanto in realtà pesino sul budget e sul bilancio comunale e dall'altro quanto siano sempre più frequenti le situazioni di emergenza di famiglie che non solo vivono condizioni di indigenza, ma che hanno purtroppo situazioni di disagio socio-educativo o socio-economico e questo è molto importante. Sì, abbiamo trattato più volte il tema della povertà, di anche persone che, una nuova povertà, che rimangono fuori da circuiti lavorativi, professionali o di formazione, quindi immagino che in una città grande come Ancona si debbano mettere in atto misure per contrastare il fenomeno, aiutare queste persone. Poi veniamo da questo 25 novembre che celebriamo sempre e purtroppo celebriamo, mettiamo in campo delle iniziative, ma la cronaca poi ogni giorno ci porta anche a questa nuova emergenza che è quella sulla violenza di genere. Sì, non basterà mai ovviamente quell'attività di educazione, di prevenzione, di sicurezza sensibilizzazione, di quelle che sono inevitabilmente i messaggi che si danno alle nuove generazioni e quello che è in realtà l'atto di denuncia che deve essere in qualche modo favorito e promosso laddove si registrino situazioni di violenza e di grande, grande tensione all'interno delle famiglie, all'interno di quelli che sono i rapporti di coppia o semplicemente rapporti fra le coppie che in qualche modo vivono la tragedia poi della violenza e magari a volte addirittura del decesso violento. Assolutamente, assolutamente. Da questo punto di vista ecco, il messaggio che un'amministrazione deve dare è un messaggio assolutamente positivo, di vicinanza non solo a coloro che vivono ovviamente il dramma dentro le proprie abitazioni, indipendentemente da quelli che sono i rapporti ovviamente di parentela, ma soprattutto di quelli che sono i messaggi che devono essere inevitabilmente lanciati alle nuove generazioni perché è un fatto educativo, un fatto culturale. Se si ne parla in maniera anche positiva e continuamente magari riusciamo anche a cambiare rotta. Un ultimo passaggio per quanto riguarda le notizie di giornata, andiamo a nord, viverepesaro.it, l'apertura è dedicata alle panchine allagate allo Stadio Benelli, oggi c'è grande spazio a questa notizia perché appunto lo Stadio di Pesaro dopo le piogge si è allagato, ci sono stati dei contrattempi che appunto hanno condizionato i giocatori che erano in campo in quel momento, ma anche le strutture e le persone che erano lì. Poi altre notizie dedicate sempre alla città di Pesaro e al circondario. Da nord andiamo a sud con Vivere Ascoli, l'apertura è dedicata alla cronaca e poi c'è un report sui casi Covid e altre notizie che riguardano appunto questa parte della regione. Ancora uno sguardo al nostro sito utvrs.it che trovate continuamente aggiornato e non è cambiata l'apertura e quindi c'è una notizia di cronaca da Napoli alle Marche, tentata truffa da 10.000 euro ad un 73enne. Questo è successo ad Ancona ed è una notizia di cronaca di queste ore a Iesi, un uomo di Iesi che però non ci è cascato, quindi ha denunciato quella che era la truffatrice, in questo caso una donna parte enopea. Noi siamo quasi alla conclusione di questo nostro appuntamento che, ve lo ricordo, vi tiene compagnia dal lunedì al venerdì, sempre in questa fascia oraria con una conduzione alternata, con ospiti diversi. Abbiamo aperto con Daniele Silvetti, sindaco di Ancona, al quale chiedo nei minuti finali, prima le ho chiesto cosa augurava i anconetani per il 2024, cosa si aspetta a lei? Qual è un obiettivo che fissa per questo anno solare? È un anno in cui dobbiamo riscoprire la voglia di vivere Ancona 12 mesi l'anno, quindi ci aspettiamo molto dall'estate, dagli eventi che porremo in essere e da tanta partecipazione del coinvolgimento delle associazioni, di tanti operatori che vogliono vivere Ancona nella fase cosiddetta estiva balneare. Mettiamo a posto Porto Novo? Per arrivarci, già avete fatto delle cose, lo so. Porto Novo sicuramente rappresenta non solo la spiaggia di Ancona perché in realtà abbiamo il passetto, abbiamo anche Palombina, sono offerte diverse che vogliamo valorizzare allo stesso modo. Su Porto Novo, visto che si trova all'interno di un parco naturale, dobbiamo adottare qualche attenzione in più e credo che la mobilità e l'accesso debba essere in qualche modo salvaguardato nella tutela non solo dell'ambiente ma anche nella sicurezza del cittadino. È un luogo meraviglioso, riproporrete le nave, i bus, navetta, così la gente… Assolutamente sì, e il collegamento soprattutto con tutta la riviera del Conere, perché è importante, perché dobbiamo fare il sistema con i comuni limitrofi, dobbiamo cercare… Non essere gelosi ma allargarsi. Assolutamente. L'ho interrotta sull'estate. Sull'estate quindi eventi in centro, eventi diffusi che possono in qualche modo attrarre turismo perché su quello facciamo una grossa scommessa e su quello punteremo a dare alla città di Ancona quella vocazione che aveva tanti anni fa, che ha smarrito nel tempo ma che vogliamo sicuramente far riemergere. Credo che una città più vivibile e più fruibile sia in realtà l'aspettativa di un capoluogo di regione che necessita soltanto un po' di fiducia ma soprattutto di tanta armonia perché, ripeto, Ancona si risolleverà come capoluogo se lo fa nella sua globalità, nella sua complessità ma soprattutto con l'aiuto di tutti i cittadini anconetani. Allora con questo messaggio chiudiamo questo appuntamento. Io vi ringrazio per essere stati con noi e ringrazio ancora Daniele Silvetti, il sindaco di Ancona, al quale auguro buon lavoro perché ho capito che c'è un'agenda fitta di impegni. Lo ringrazio anche per essere stato qui con noi, averci dedicato questo spazio importante e noi torniamo puntualmente domani alla stessa ora. Grazie a tutti e buon proseguimento di serata. Buonanotte.